Vabbè dai, sono morto, gg Manchina, macchina Faccio vedere la fuga di Exeter E non parte E per l'altro parte Exeter Ragazzi, non posso fare nulla Sì Che cos'è questa? Piano, 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 piano Vorrei capire un attimino come funziona il... Ma che c***o di gran figata di gioco che è Allora, le granate come si... Cassa di scorte pronta Ma come è cassa di scorte? Ma come? Ma questo chi c***o è? Ma devi capire un attimino perché non ho c***o Però bravo Bene Bene Minchina, devi non urlare Io e zio Gian Da soli, solo i soletti Sul lungomare A fare affari Come un tempo Ah, che coppia Lo zio Gian e il papà Io non voglio essere lo zio Gian Merda Sempre... Oh! Porco di quel porco di quel... Merda No 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 Che c***o Andiamo No, totale in un senso Totale in un senso Si dai, bravo 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 Vuoi applaudire anche con il c***o figlio di p***a Bravo Bravo Diokara ci ha amato la madre c'era due tette che scendeva fino alle ginocchia Parco diaz quando camminava applaudiva dio caro Con le tette zio, non male Giocavo applaudire Camminava così Parco diaz è una foca figa Applaudire con le tette è comunque da riconoscere come skill E dai, vai, giocavo al grade Dai, bravo Bravo Ma che c***o me l'ha fatto affare a giocare questo deck Eeeh Di cofono? 34 anni Eeeh Eeeh Non è un deck osceno È una m***a È una m***a Non ti muovere non switchare armi Non fare nulla Mi sembra un materiale li avete? Non possiamo fare nulla si li ho ma Mi devo curare Mi sembra un materiale mi dia per favore Grazie Non so dove sono Ho 60 Non è di da pal c***o Ma è stato un grande bodyblock 203 Tanto è di due Guarda intensamente le persone Scandisce un po' meglio la voce E poi Eeeh vabbè Fai lo stesso movimento mentre ti metti questo qua nel c***o Nooo Ohhhhh Che mi Nooooooooooooooooooooooo Se eri contro un cinese è normale che perdi, eh? C'ho un problema con questa unità Guarda la claccio io La claccio io, la claccio io Sì, vabbè, buonanotte Siamo in 17, siamo Ho chiesto una volta la panaccio che ho avuto, vostro è arrivato Vostro è arrivato, vostro sai? Il soccorso del povere pestante Che cos'è? Tecnica minchione? Oh car, ma non abbia fretta, due flopper Dove guardo? Ma vabbè, perché corre così tanto in militi? Che fai? C'è sale, scusate a decidere salire La seconda è morta Oh, attenzione Oh, attenzione Sì, vuole mettere, attenzione Ci sta La claccio io, la claccio Minchia, sto imparando a masterare il paracadute Piano Quasi 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 All'ultimo grido Il fico d'India Per favore Per favore Io non la voglio ascoltare Non la voglio ascoltare Lei deve smettere di prendere le pastiglie Troppo vicina una con l'altra Perché le si sbrindella il cervello Quindi per favore Per favore Eh beh ci sta L'hanno chiamato per andare a Zelig Ha detto no, son troppo bravo Non... Ok, la macchina che useremo per scappare è questa Che bene o male non fa troppo schifo Capito? Stai divertendo? Non lo spara tutto Pochettino si Non è che sono Non è che sono Non era per Non è che sono 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 C'è un problema Era l'altro muscolo per caricare la pistola Strike una Ci sono, ci sono Prezzo hai mai lasciato Prezzo hai mai lasciato Prelega Oddio Ups Ho 16 anni E io non spero di cambiare il mondo Meno male Sono convinta Ah eccovi Non è vero Sono una tipa decisa Passionale Che non si arrende mai E sa esattamente ciò che vuole Io voglio cambiare il mondo Vuole cambiare il mondo? Sto scrivendo un'opera filosofica Quella madonna Che ha tre concetti principali Ed è fatto su tre pagine Ovvero libertà, arte e infinito Che hanno come fine ultimo Il portare gli esseri umani alla felicità Oh la madonna figa è arrivata Il formato Che fai molto Che fai C*****o, eravamo due a due, nooo, ero un c*****o Aspetta, aspetta, aspetta c'è stato un... Ok, non ho modo proprio di muoverlo, né scendere e né salire, né scendere e né salire Allora, guarda che ce lo faccio Ok, tu sei sotto? Sì, sono sotto di te, sono sotto di te Ma c*****o Forse dovevi scendere più e più No, secondo me andava aperto il carrello Solo che se non me lo dici C*****o, che so Cioè, dimmi, apri... La mia prospettiva è stata un'esplosione fantastica Apri il carrello nel senso, eeeh, scusami Senti, almeno sei sceso, dai guarda il dato positivo Assolutamente